Eleonora Pedron si è laureata in psicologia, l'ex Miss Italia lo ha fatto con una tesi ispirata alla sua storia personale, segnata da due gravi perdite in circostanze analoghe, la morte della sorella Nives e quella del padre Adriano in due incidenti stradali. A 40 anni ho messo in pausa tutto per diventare psicologa, aveva confessato qualche mese fa. Il grande giorno è arrivato con la Pedron che l'ho annunciato su Instagram postando uno scatto con la corona dall'oro e la tesi. Mamma e papà sono tanto felice, ha scritto la 41enne. Al settimo cielo anche il compagno Fabio Troiano che commenta la mia dottoressa.